La Mezzia, 75 anni, è coltellato su Corso Numistrano, trasportato in ospedale. Momenti di tensione questa mattina su Corso Numistrano. Un uomo di 75 anni è stato trovato accoltellato nella villetta comunale di fronte all'ufficio postale. Sembrerebbe a seguito di una lite. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia Locale per stabilire le dinamiche del caso. L'uomo colpito all'altezza dell'addome è stato trasportato in ospedale dal 118 e non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia sta cercando di individuare eventuali testimoni per ricostruire l'accaduto e acquisendo le registrazioni delle telecamere. Ragazza precipita da balcone a vibbo è grave. Una ragazza di 17 anni è precipitata da circa 6 metri di altezza da un'immobile a Bivona, frazione costiera del comune di Vibo Valentia. A causa della gravità delle ferite si è reso necessario il trasferimento in elisioccorso all'ospedale pugliese di Catanzaro. La giovane, per causa ancora in corso di accertamento, è caduta dal balcone di casa ed è stata trasferita a Catanzaro per via di un trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri a cui spetterà fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'incidente. Colto da malore mentre pescava a Sellia Superiore, salvato dai vigili del fuoco. La sala operativa del 115 è stata allertata per un intervento di soccorso nel comune di Sellia Superiore. Una persona è stata colta da malore mentre era intenta a pescare nei pressi del fiume Simeri, nella vallata tra i comuni di Zagarise e Sellia. La squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, di staccamento di Sellia, intervenuta prontamente, ha messo in atto le operazioni di recupero con l'ausilio di un elicottero e delle unità del nucleo speleologia alpino fluviale SAF della sede centrale. I soccorritori, in considerazione della zona impervia non raggiungibile con mezzi ordinari, hanno risalito a piedi per circa due chilometri l'alveo del fiume, raggiungendo il malcapitato e portandogli le prime cure, provvedendo successivamente al suo recupero e trasporto, con l'ausilio dell'elicottero dei vigili del fuoco al Policlinico Universitario Germaneto di Catanzaro. Omicidio nel Crotonese. Il PM chiede 30 anni per l'autore. Trent'anni di reclusione, è quanto ha chiesto il PM Giampiero Golluccio, per Vincenzo Malena, di 41 anni, di Ciro Marina, accusato dell'omicidio di Pasquale Carruccio, avvenuto il 10 dicembre del 2018. Carruccio, manovale di 44 anni, morito può essere stato colpito da una coltellata inflittegli da Vincenzo Malena per motivi passionali. Tutta la vicenda nasce dal fatto che, secondo Malena, Carruccio si era messo a corteggiare la sua ex fidanzata, una ragazza polacca che risiede a Ciro Marina e lavora nello stesso bar che era frequentato dalla vittima. Nel corso dell'udienza del processo, con rito abbreviato, il PM Golluccio ha chiesto al GUP del Tribunale di Crotone, Romina Rizzo, il massimo della pena per Malena, che, per la riduzione prevista dal rito, è di 30 anni di reclusione. Oltre a Malena, il processo vede alla sbarra altri 5 imputati per favoreggiamento. Due di loro hanno patteggiato la pena di 8 mesi, Cataldo Aloe, accusato di aver accompagnato Malena ed essersi sbarazzato dell'arma buttandole in un tombino, e Cataldino Arturo Ferrara, che ha aiutato Malena a disfarsi dai vestiti, bruciando quelli utilizzati durante il delitto e fornendogliene di nuovi. Ruba cellulare in un bar a Soverato, arrestato ventenne. I carabinieri della stazione di Soverato hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne incensurato, residente in provincia di Reggio Calabria, ritenuto responsabile di furto con destrezza. In particolare, nella mattinata di sabato 27 giugno, a seguito di una richiesta pervenuta sull'utenza di pronto intervento 112, i militari si sono recati presso un bar di Soverato, dove era stato segnalato il furto di un telefono cellulare. Giunti tempestivamente sul posto, gli operanti hanno accertato che un giovane, dopo essersi introdotto all'interno di un esercizio pubblico di Soverato, approfittando di un attimo di distrazione di un cliente, sia impossessato del suo telefono cellulare, dileguandosi poi a piedi per le vie limitrofe. A questo punto hanno attivato subito le ricerche del soggetto, rintracciandolo mentre passeggiava in via Mirante. Nella circostanza hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti dello stesso, rinvenendo lo smartphone di cui si era impossessato poco prima, che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto presso le camere di sicurezza del comando di Soverato, in attesa dell'udienza di convalida. Uscivano da un fondo in cui erano coltivate cento piante di cannabis indica, arrestati due vibonesi. Personale del reparto prevenzione crimine Calabria Centrale, impiegato unitamente ai dipendenti della squadra volante, nei servizi di controllo del territorio, volti anche alla verifica del rispetto delle note misure di distanziamento sociale, nei pressi della stazione di Vibbo Pizzo, ha tratto in arresto in flagranza di reato FM 35N Vibbonese, già noto alle forze dell'ordine, e SN 20N legati da vincoli di parentela, sorpresi mentre uscivano da un fondo, risultato nella loro disponibilità, nel quale erano coltivate un centinaio di piantine di cannabis indica. La successiva perquisizione, effettuata nell'abitazione dei congiunti, ha permesso di rinvenire anche una spada katana, illecitamente detenuta. L'arma e le piante di cannaba sono state sequestrate, mentre gli arrestati, al termine degli atti di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari. Scoppia un incendio boschivo individuato irresponsabile I militari della stazione dei Carabinieri Forestale di Montalto Fugo hanno individuato il responsabile di un incendio boschivo avvenuto nei giorni scorsi nel comune di Rota Greca, in località Ortale. L'incendio è divampato in seguito all'abbruciamento dei residui dell'attività agraria e di un cumulo di segatura derivante dal taglio di alcune piante in un olivetto di proprietà. All'arrivo dei militari sono apparsi evidenti nel corso del sopralluogo e degli imminenti accertamenti tecnici i segni di lavorazione agricola con abbruciamento dei residui vegetali, ancora in fumo da dove si è potuto individuare il punto di insorgenza dell'incendio attraverso il metodo delle evidenze fisiche che permette di ricostruirne l'evoluzione dell'incendio. Per spegnere le fiamme che hanno interessato una superficie di 1.500 metri quadri, sul posto è intervenuto un autobot di Calabria Verde che ha scongiurato la propagazione ulteriore dell'incendio. Le indagini avviate subito dagli uomini dell'arma forestale hanno portato all'individuazione del responsabile un sessantenne del luogo deferito alla Procura della Repubblica di Cosenza per incendio colposo, ai sensi dell'articolo 423 bis del Codice Penale. Rifiuti abbandonati, responsabili e individuati grazie ai nomi su lettere e bollette buttate. Ennesimo intervento della Compagnia Carabinieri di Bianco a tutela dell'ambiente e del territorio. In un momento storico in cui il dibattito sulla gestione dei rifiuti continua ad essere attuale, l'arma continua a fare la sua parte e sostegno dei cittadini. In particolare i Carabinieri di Caraffa del Bianco e i Carabinieri forestali di Brancaleone sono intervenuti a Casignana, non lontano dall'argine della fiumara Bonamico, dove hanno individuato una zona di abbandono incontrollato di rifiuti. Una vera e propria discarica abusiva, grande circa 300 metri quadrati. Tanti rifiuti trovati all'interno, domestici di diverso tipo, plastica, vetro, indifferenziata, ma anche materiali idile ed elettrodomestici. Presente persino una vecchia automobile. I Carabinieri forestali hanno così segnalato al Comune di Casignana il sito per gli adempimenti di competenza finalizzati alla bonifica del terreno da parte del proprietario. La zona appartiene prevalentemente ad un privato. Una porzione del terreno, invece, è demaniale. Ma i militari dell'arma non si sono fermati qui. Guanti alla mano hanno dispezionato i rifiuti presenti all'interno di alcuni sacchi dell'immondizia. Sono stati trovati scontrini, bollette, lettere varie. I dati trovati hanno consentito di individuare quattro dei furbetti che hanno gettato impropriamente l'immondizia in zona. Per ciascuno di loro è fioccata una sanzione per un ammontare complessivo di 2.400 euro. Continuano dunque i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria per contrastare i reati di natura ambientale e dare così una risposta concreta alla difficile situazione vissuta dall'intera città metropolitana. Fondamentale in questo senso l'operato dei Carabinieri forestali. Serve però anche l'aiuto del cittadino. Ogni tentativo di smaltimento di rifiuti illegale, viste le conseguenze sul potenziale inquinamento dell'aria, del suolo e delle falde acquifere può essere segnalato al numero di emergenza 112. Daniela Maiolo per Teleionio. Sospesa attività locale Movida a Corigliano Rossano multato per 17.000 euro il titolare. Sospesa l'attività di un locale della Movida sul litorale di Schiavonea a Corigliano Rossano ed elevata una multa pari a 17.000 euro al titolare. È il risultato dell'attività di controllo della vita notturna sul litorale da parte dei Carabinieri della compagnia di Corigliano. I militari supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cosenza hanno ispezionato alcuni locali notturni riscontrando in uno di questi la presenza del 20% del personale dipendente senza un regolare contratto di lavoro. Inoltre all'interno delle attività commerciali non era attuato alcun protocollo previsto per contrastare la diffusione del Covid-19. Il titolare è stato anche sorpreso a somministrare alcolici ad un minorenne. L'attività commerciale è stata sospesa ed il titolare è stato sanzionato con una multa pari a 17.000 euro. Nel corso della stessa attività i Carabinieri hanno denunciato due giovani per detenzione di marijuana ai fini dello spaccio. La sostanza già divisa in dosi stava per essere ceduta a giovanissimi. Indagine contro abusivismo demaniale a Vibbo sequestrata a parte lungomare di Ioppolo. Nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo demaniale ambientale condotta dalla Guardia Costiera di Vibbo Valencia e coordinata dal procuratore della Repubblica Camillo Falvo e dal sostituto Eugenia Belmonte è stata eseguita una rilevante attività di indagine al fine di verificare le regolarità di alcuni lavori nella frazione Coccorino del comune di Ioppolo. L'attività condotta dalla Guardia Costiera ha portato ad individuare e porre sotto sequestro penale una porzione di lungomare dove era stato realizzato un pennello ortogonale alla costa in totale spreggio delle pertinente norme vigenti in un'area tra l'altro sottoposta al vincolo paesaggistico ambientale utilizzando dei massi da riporto provenienti da un escavo di terreno privato provvedimento quest'ultimo che non era stato convalidato dal GIP del Tribunale di Vibbo Valencia. Gli esecutori materiali pertanto sono stati denunciati penalmente alla componente Procura della Repubblica di Vibbo Valencia per i reati di deportamento e danneggiamento di bellezze naturali e per violazione del decreto legislativo in materia di tutela dei beni paesaggistici. Furto di legname a brognaturo assolto un uomo non originario del luogo Il giudice monocratico del Tribunale Penale di Vibbo Valencia Sapia ha depositato le motivazioni con le quali ha assolto TRG non originario del luogo dal reato di furto di piante ed invasione arbitraria del fondo altrui consumato a brognaturo. Il processo era scaturito a seguito di querela asporta dalla presunta persona offesa nei confronti dell'imputato il quale nell'effettuare il taglio di alcune piante avrebbe invaso arbitrariamente il fondo e ne avrebbe asportato il prodotto. A seguito di ciò i forestali recandosi per effettuare un sopralluogo hanno notato il taglio di alcune piante che venivano asportate dal castaneto e depositate presso un piazzale. All'esito dell'istruttoria dibattimentale il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a sei mesi di reclusione e 300 euro di multa. La difesa dell'imputato rappresentata dagli avvocati Cosimo Tripodi e Vincenzo Galeota entrambi del foro di Catanzaro hanno rappresentato al giudicante attraverso il deposito di documentazione che le fattispecie penali addebitate all'imputato non appaiono integrate sia sul versante oggettivo che soggettivo del reato. Il giudice accogliendo interamente le stessi difensive ed evidenziando la mancanza degli elementi costitutivi del reato di furto e invasione arbitraria del fondo ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Daniela Maiolo per Teleionio Elezione a Serra Damiani mette in chiaro nel PD mi sento a casa mia Pochi pochissimi giorni e il bandolo della matassa attorno al nome di Vincenzo Damiani sarà dipanato da qui a metà della settimana prossima il quadro si delinerà in maniera chiara e definitiva dando una forma precisa a tutte le voci circolanti in queste ore a proposito dell'eventualità di una candidatura a sindaco di Serra San Bruno da parte del medico 59enne Quella in corso è la fase decisiva della discussione interna al Partito Democratico propedeutica alle determinazioni finali Del resto il tempo corre velocemente e le elezioni comunali del 20 e 21 settembre sono dietro l'angolo Siamo nel PD da 16 anni rivendica orgogliosamente Damiani per cui all'interno mi sento ovviamente a casa mia Un ragionamento completato dalla consapevolezza che una componente del partito vede di buon occhio la sua discesa in campo quale leader della lista emergente dell'accordo ormai strutturato a livello comunale tra l'ala censoriana e quella salerniana e desiderosa di riconquistare il palazzo municipale dopo l'anticipata fine della consigliatura seguita all'elezione dell'ex sindaco Luigi Tassone a consigliere regionale Un drappello quello capitanato da Vincenzo Damiani sul quale il professionista serrese falleva per consolidare le aspettative maturate nel corso degli anni Restano da vedere le valutazioni complessive dell'intero gruppo civico e le conseguenze di possibili ponderazioni in senso contrario Elezioni di Serra De Raffaele in alto volare fa riferimento al centrodestra il candidato a sindaco sarà condiviso Il gruppo che ho l'onore di coordinare fa riferimento ai valori del centrodestra la nostra storia politica parla per noi siamo sempre stati di centrodestra io sono un tesserato di Forza Italia finché c'è stato il direttivo locale nero componente poi dopo le dimissioni presentate su nostra richiesta per motivi di opportunità da Francesco De Caria il coordinamento comunale non è stato ricostituito ma io e tanti amici del mio gruppo siamo e rimaniamo di Forza Italia altri hanno sensibilità diverse ma sempre chiaramente riconducibili ad altri partiti di centrodestra come Fratelli d'Italia E quanto affermato il coordinatore del movimento civico in alto volare Giuseppe De Raffaele durante la trasmissione in streaming di On The News condotta da Antonio Zaffino e Biagio Larizza De Raffaele si è soffermato sul rinnovo dell'alleanza con il movimento La Serra Rinasce precisando che il candidato a sindaco sarà una figura condivisa e che la nostra presenza nella lista civica sarà consistente lavoreremo su un programma che conterrà delle novità significative aggiunto confrontandoci con i nostri alleati per la definizione delle priorità va detto che con l'ingresso in giunta del nostro gruppo c'è stato un cambio di passo e molti progetti fermi sono ripartiti e sono stati portati a conclusione De Raffaele su questo aspetto ha fatto specifico riferimento alla realizzazione della pinacoteca nei locali dell'ex carcere e all'avvio del processo di autonomia idrica grazie al finanziamento procurato con l'impegno di Nazareno Salerno che secondo me è stato il miglior sindaco di Sarra San Bruno Daniela Maiolo per Teleionio Elezioni l'invito di Klaus Davi dei candidati a sindaco massoni i reggini farebbero volentieri a meno alcuni degli ipotetici candidati a guidare le liste di alcuni partiti sono notoriamente iscritti al GOI al Grande Oriente d'Italia invito questi signori a fare coming out non c'è assolutamente nulla di male nell'essere appartenenti alla massoneria ma sarebbe opportuno lo dicessero ai cittadini di Reggio lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca la mia opinione sulla massoneria l'ho già espressa ha avvantaggiato Cosenza e Catanzaro penalizzando Reggio ha lavorato contro questa città in stretta collaborazione con l'Andrangheta come dimostrano le inchieste del pubblico ministero Giuseppe Lombardo uno dei quotati a livello internazionale dei candidati a sindaco massoni i reggini ne farebbero volentieri a meno ma visto che ci sono almeno lo dicano L'assessore regionale Catalfamo è indagata per concorso esterno in associazione mafiosa? Non ci sarebbe più solo l'accusa di corruzione secondo il fatto quotidiano l'assessore regionale Trasporti Domenica Catalfamo sarebbe indagata anche per concorso esterno con l'Andrangheta nell'ambito dell'inchiesta Helios che ha messo nel mirino gli affari dell'AVR la società che a Reggio Calabria si occupa della raccolta dei rifiuti ma non solo al momento della notifica del provvedimento che ha reso pubblica la posizione di Catalfamo e di altri soggetti politici del comune di Reggio Calabria l'accusa era solo quella di corruzione con riferimento all'avviso di conclusione indagini ricevuto questa mattina riponendo assoluta fiducia nell'operato della magistratura ritengo di poter affermare di avere sempre agito esclusivamente nell'interesse della pubblica amministrazione con onestà e trasparenza aveva dichiarato Domenica Catalfamo assessore regionale ai trasporti indagata per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Elios della DDA di Reggio Calabria la donna ex dirigente della provincia di Reggio Calabria è anche cugina del parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro ora stando alle indiscrezioni giornalistiche sarebbe indagata anche in concorso esterno in associazione mafiosa Daniela Maiolo per Teleionio processo fondi ai gruppi consigliari assolti Barilaro e Raffaele messa la parola fine alle strumentalizzazioni dei giustizialisti con la sentenza di assoluzione e scritto in una nota congiunta a firma Giuseppe Barilaro sindaco di Acquaro e Giuseppe Raffaele già consigliere provinciale di Vibo Valencia si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria che si è trascinata per oltre 5 anni un arco di tempo nel quale abbiamo ritenuto opportuno mantenere il più assoluto silenzio nella ferma convinzione che per come peraltro è giusto che sia in questi frangenti occorre confidare nella giustizia e saper aspettare perché la verità è figlia del tempo l'esito del procedimento giudiziario conferma ove mai ce ne fosse bisogno la correttezza del comportamento della conferenza dei capigruppo da me presieduta relativamente all'assegnazione dei fondi destinati ai gruppi consigliari attuata secondo una prassi consolidata e sempre rispettosa della legge e dei regolamenti interni dell'ente l'auspicio confidano Barilaro e Raffaele e che questa sentenza scriva definitivamente la parola fine su una vicenda fin troppo strumentalizzata dai soliti giustizialisti che in modo alquanto sommario e superficiale non hanno esitato a promuovere l'agonia mediatica sulla base di presupposti rivelatasi alla prova dei fatti manifestatamente infondati tanto da indurre la stessa pubblica accusa a chiedere per mezzo del pubblico ministero la piena soluzione grazie agli avvocati Giuseppe Di Renzo e Antonio Barilaro per la qualifica e puntuale difesa non basta avere ragione bisogna avere qualcuno che te la dia Daniela Maiolo per Teleionio Misura di solidarietà Calabria Gasperina c'è Come rende noto l'amministrazione comunale del sindaco Gregorio Gallello la regione Calabria ha assegnato al comune di Gasperina nell'ambito della misura di solidarietà Calabria 11.727,90 euro la somma è destinata a sostenere i cittadini in difficoltà economica ed impossibilitati a provvedere alla spesa alimentare per il proprio nucleo familiare nel periodo di emergenza dovuto al covid-19 per la presentazione delle domande c'è tempo fino alle 13.30 del prossimo 15 luglio di conseguenza fanno sapere ancora gli amministratori locali abbiamo pubblicato l'avviso per comporre un elenco comunale di esercizi commerciali farmacie e parafarmacie disponibili a consentire l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità farmaci e parafarmaci agli aventi diritto dei buoni spesa che il comune di Gasperina provvederà a distribuire nell'ambito della misura di solidarietà le istanze possono essere presentate entro le ore 13.30 del prossimo 10 luglio ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco Chiaravalle Torre tentano di rubare in abitazioni i carabinieri della locale stazione sono al lavoro per individuare i responsabili che ieri mattina si sono introdotti in due distinte abitazioni il luogotenente Giovanni Falsanisi con i suoi uomini è intervenuto in via Mario Ceravolo dove una signora ha denunciato un tentativo di furto da parte di due uomini sempre ieri mattina i due individui stando ad alcune denunce erano stati a Torre di Ruggero dove erano riuscite ad entrare in una casa abbandonata dal centro storico nell'abitazione torrese non sono riusciti a rubare nulla mentre in quella di Chiaravalle solamente le urla della proprietaria hanno indotto i due malviventi ad abbandonare l'idea di entrare in casa per arraffare qualcosa i carabinieri per risalire all'autovettura e quindi ai due uomini hanno visualizzato le riprese di alcune telecamere posizionate lungo via Mario Ceravolo resta alta l'attenzione da parte dei carabinieri per risalire e quindi individuare i responsabili dell'azione delinquenziale Soverato cerimonia di consegne delle bandiere blu agli stabilimenti balneari nella suggestiva cornice del giardino botanico che domina la città il comune di Soverato guidato dal sindaco Ernesto Alecci ha consegnato alle attività balneari la bandiera blu 2020 un vestillo che sventola sulla perla dello Ionio per il quarto anno consecutivo segno che la città è sempre più sostenibile come ha confermato anche il presidente della FI Italia la fondazione che gestisce il programma bandiera blu Claudio Mazza presente alla cerimonia nel corso della cerimonia infine l'amministrazione comunale ha consegnato due riconoscimenti al campione regionale soveratese Gino Vitale medaglia d'oro di nuoto 100 metri stile libero e all'apneista di fama mondiale milanese ma con il cuore soverato Omar Leuci per i prestigiosi risultati conseguiti nel mondo dello sport portando in alto il nome di soverato ed ora Davoli con questo servizio con l'approssimarsi delle elezioni che si terranno a settembre dopo la nota del circolo del PSI di Davoli che chiede quali siano le prospettive della cittadina ionica arriva la risposta del sindaco Giuseppe Papaleo sì ormai è stabilita la data quindi chi parteciperà a questa tornata elettorale tra il 19 e il 20 di agosto dovrà presentare le liste ieri è uscito per la verità questo manifesto del partito socialista qui a Davoli che io ritengo sia stato veramente ingeneroso nei confronti di un'amministrazione anche non fosse altro intanto perché per cinque anni non si è detto nulla adesso arrivano le elezioni e si esce fuori così criticando ma criticando senza concretezza senza mettere all'attenzione veramente le problematiche di perché ci sono queste queste critici dire così genericamente l'amministrazione non ha fatto nulla è una frase banale una frase che non ha senso anche perché noi pubblicheremo a breve tutto ciò che l'amministrazione ha fatto di suo sia come acquisizione di risorse per realizzare la delegazione comunale perché voi dovete sapere i cittadini devono sapere che la precedente amministrazione aveva avuto un contributo di 350 mila euro per costruire la delegazione comunale ma l'hanno perso la regione ha definanziato quel finanziamento quindi dire che quel finanziamento era loro è sbagliato perché loro c'è una lettera della regione notificata al comune di Davoli dove veniva definanziata la costruzione della delegazione noi abbiamo non si sa perché non l'hanno realizzata noi abbiamo riacquisito un finanziamento ex novo e abbiamo realizzato la delegazione comunale come abbiamo realizzato l'intervento sulla scuola media come abbiamo fatto tratti finanziamenti per tratti di fogna ma tutte queste cose abbiamo ieri avanti ieri è arrivata la comunicazione della regione Calabria che ci ha finanziato il progetto di 200 mila euro per l'aria picnic in montagna ci hanno finanziato il progetto dei borghi a Davoli superiore per 850 mila euro quindi dire così in modo banale semplicistico da politica spicciola non si è fatto nulla è un mortificare quello che deve essere il dibattito politico amministrativo che io ritengo ci debba essere a Davoli per la storia che a Davoli sia politica che amministrativa ridurlo a un dibattito da marciapiede secondo me svilisce non tanto chi lo subisce ma chi lo fa questo tipo di critica quindi noi siamo pronti per la competizione elettorale Sindaco la sua giunta si è distinta per una importante presenza in tutte quelle che sono state le manifestazioni organizzate dai privati o dalle associazioni del territorio continuerete in caso di rielezione con la vostra presenza e il vostro supporto ai cittadini e alle associazioni Senz'altro noi questo è un intento che logicamente svilupperemo anche nel programma ma questo noi lo faremo in modo aperto come l'abbiamo fatto in questi cinque anni soprattutto lavorare con le associazioni coinvolgere le associazioni ma soprattutto incentivare l'iniziativa privata laddove ci sono tutti questi vincoli burocratici che frenano un attimino quella che è l'iniziativa privata noi dobbiamo saper superarle per dare l'incentivo a poter ecco aprire e sviluppare idee nel privato vi faccio un esempio banale siamo qui vicino il motor oil il motor oil con la questione covid quindi gli spazi distanziamento e tutto ha fatto una richiesta per poter creare un'apertura come un bancone sulla parte che dà ridosso del lungomare noi potevamo come amministrazione decidere di darla o di non darla perché nessuno ci vietava di dire no sul lungomare noi questo tipo di però non avrebbe avuto senso perché noi dobbiamo andare incontro a chi il motor oil in questo caso ma per tutte le attività che saranno aperte qui sul litorale di Davoli di dare la possibilità di lavorare al meglio quindi ben venga l'apertura a mare di una finestra di uno spazio dove tu passa il ragazzino vuole prendere il gelato senza farlo entrare dentro quindi creare assembramento creare affollamento glielo dai sulla passeggiata mangi il gelato poi logicamente butta la carta nel cestino della spazzatura però non la deve buttare per terra quindi questo noi faremo nei prossimi se avremo la fiducia dei cittadini di Davoli perché sono loro poi alla fine che decidono e non i gruppi politici noi continueremo in questa nostra un'ultima domanda squadra vincente non si cambia vale anche nel vostro caso sì diciamo che io avrei riconfermato tutte e nove i consiglieri uscenti però c'è qualcuno che per motivi personali motivi di lavoro motivi di impegni lavorativi ha deciso di non ricandidarsi e quindi noi stiamo costruendo una lista con il blocco di impegno comune logicamente viene riconfermata tutta la giunta come candidati al consiglio comunale e poi tutti gli innesti che noi stiamo facendo sono innesti giovani ragazzi che devono crescere insieme a noi perché noi lasceremo fra cinque anni se ci saremo il timone a questi ragazzi che devono poi loro prendere in mano il tutto e gestire l'aspetto amministrativo del paese e ora ritorniamo a Chiaravalle con questo servizio presso la chiesa del santuario madonna della pietra incontrata foresta di Chiaravalle è stata celebrata la santa messa del parroco Don Roberto Celia a conclusione del mese di giugno dedicato al sacro cuore inoltre è stata realizzata una splendida infiorata abbiamo iniziato questa tradizione l'anno scorso cioè tradizione ma come capito ormai da tanti anni qui a Chiaravalle festeggiare il mese di Gesù la conclusione appunto con la processione del Corpus Domini qui se ne appunto se ne fanno due l'anno scorso abbiamo iniziato ad arricchire questa festa con l'infiorata quest'anno a causa del covid non l'abbiamo potuta fare all'esterno però abbiamo deciso di farla appunto all'interno qui al santuario per dare la possibilità di continuare questa tradizione che è molto bella l'infiorata è il segno di una comunità che apprezza la bellezza la bellezza del nuovo la bellezza di essere comunità ma soprattutto la bellezza di sentirsi amati da colui che veramente ha portato la primavera nuova nella nostra vita con la sua risurrezione a la sua risurrezione a la sua risurrezione a la sua risurrezione Grazie a tutti. 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 Retroupe. È arrivato un brutto virus. E ciascuno in casa ferma va a una scuola molto strana. un computer e uno schermo. Nesta si saluta, però oggi che volete deve farlo con un clic e con un mouse e con la rete. Venne il giorno ancora più tranno della scuola telematica come inizio ebbe giudioso dell'attore di matematica. Grazie maestro, torniamo presto nella nostra stanza di scuola, di classe e di amici a un metro e mezzo di distanza. Così abbia una buona fine, che il computer e i fatticati si serviranno solo per vedere i gattoni mati. Grazie a tutti.